Ciao, benvenuti nel Maronne Album 7, il settimo capitolo musicale di una persona che non è proprio un cantante, non lo sa fare, però lo fa lo stesso perché si diverte, cioè per spizio, capito? E noterete che le tracce sono piuttosto tossiche, cioè dico tante parolacce, sono arrabbiato, frustrato, ogni singolo brano è più o meno ciò che pensa un tipo di player di questa community fantastica che ogni giorno affrontiamo, comunichiamo, flammiamo. Ecco, io vorrei dire ai Rioter, sappiate che questo album, se il vostro gioco non fosse stato una merda, sarebbe stato un album bello, pieno di gioia, un album pieno di messaggi positivi, potevate addirittura metterlo nelle storie di Instagram e dire cazzo la community italiana è veramente forte, guarda qui che cosa ha creato, e invece no, sarà flame, tossico, odio, meno 19 più 11, capito che intendo? Porco d***o, ne***o, si può dire qui? Ne***o, ne***o, non si può dire.